buongiorno allora se gommi a stasmana in promozione se se gommi e gommi la torta saccher e nostra produzione beh da boh allora se come l'hai fatta per tornare a me se comunque spiega allora l'hai fatta con un pan di spagna al cioccolato con una farcitura di una crema dal bicocca e copertura e cioccolata al banco forno e pasticceria c'è la torta saccher di nostra produzione scontata del 20 per cento alla cassa a 12 euro e 72 al chilo anziché 15 euro e 90 olio extravergine di oliva classico monini in offerta per i soci cop a 3 euro e 28 l'olio extravergine d'oliva è il miglior condimento che possiamo avere sulla nostra tavola sapete quanto non dovete consumare a pasto non ho idea io vado ad occhio in grammi due cucchiai 50 grammi non l'idea 50 grammi a seconda perché qui di oliva in emilia romagna ce ne sono poche perciò andiamo a le vostre risposte sono state tutte abbastanza corrette infatti un consumo di circa 15 20 grammi d'olio che corrispondono a un cucchiaio un cucchiaio e mezzo sono la dose raccomandata di olio extravergine di oliva a pasto non so se sapete però che dovete conservare la vostra bottiglia d'olio al riparo dalla luce questo per preservare il suo contenuto di vitamina e importante vitamina antiossidante coniglio italiano cop in offerta a 7 euro e 70 al chilo anziché 10 euro e 30 con uno sconto del 20 per cento il coniglio è una carne bianca è molto apprezzata perché è molto gustosa e a poche calorie inoltre contiene vitamine come la vitamina pp proteina ad alto valore biologico e sale minerali soprattutto ferro e potassio e come dicevamo è apprezzata per la sua alta digeribilità e proprio per questo è indicata nell'alimentazione delle donne in gravidanza e dei bambini è opportuno consumarla senza aggiungere troppi grassi e sempre accompagnata da verdure di stagione come ad esempio in questo momento gli spinaci all'ipercoppa riosto c'è lo speciale neve tante offerte sull'abbigliamento tecnico per uomo donna e bambino per lo sci e il tempo libero in settimana bianca mi porterai giusti me no decisamente questo giusto solo perché qua no no confermo confermo allora adesso chiede a lui ti porteresti in settimana bianca la unziché io un settimana bianca porterei belenne simpatica si sa sciare simpatica può andare sempre mio marito nessuno bianca ne so stiamo in rose incredibile no 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 lui odia la sua bene ma guarda che mi sono il mio figlio di arte sei solo un oggio sei qua si 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 Grazie a tutti.